È una giornata di sciopero che, per uscire immediatamente dall'equivoco, non è una giornata che rivendica rivalutazioni salariali o cose di questo genere. È una giornata di sciopero fatta a vantaggio dei nostri assistiti perché vogliamo portare a tutti i livelli questo grosso disagio che i nostri pazienti cominciano ad avere per un impoverimento graduale ma complessivo di tutto il sistema. Tant'è vero che al di là dei medici di medicina generale domani scioperano anche i colleghi ospedalieri. Anche lì un altro impoverimento che è dovuto alla cattiva gestione di questo famoso blocco del turnover. I medici giovani, i specialisti giovani stanno a spasso, i posti sono vuoti. Una legge dello Stato che recepisce una normativa europea ha modificato in questi giorni anche la possibilità dei famosi riposi dopo il lavoro, la riduzione del lavoro straordinario, c'è quindi grosse difficoltà ma in questa regione si continua a non assumere e si continua soprattutto a gravare burocraticamente sui medici che hanno in questo momento un solo desiderio, quello di tornare a fare i medici. Quindi domani ambulatori chiusi? Domani ambulatori chiusi, non solo ambulatori dei medici di medicina generale ma anche ambulatori ospedalieri. Noi continuiamo come sempre a garantire le chiamate domiciliari urgenti e quindi siamo comunque sulla breccia. L'emergenza saranno garantite? L'emergenza saranno sempre e comunque garantite ma vogliamo ripeto portare proprio la voce dei nostri pazienti perché oggi basterebbe fare un giro nelle sale d'attesa dei nostri studi per toccare con mano quello che è il disagio del cittadino. E bisogna tener conto che dal primo di gennaio in poi i disagi aumenteranno ancora perché cominciano a carico dei medici di medicina generale le sanzioni per un decreto che è stato fatto dalla regione Campania e che con l'alibi dell'appropriatezza non fa altro che ridurre ulteriormente la possibilità di prescrivere alcuni farmaci per i cittadini. Chi adirirà domani allo sciopero? Nel nostro gruppo di Vallo della Lucania che comprende l'ambito di Vallo, Cannalonga, Moio, Ceraso e Novivelia, tutti. Tutti i medici di medicina generale, una parte dei medici di medicina generale del nord, dell'ambito di Montano Antilia e dell'ambito di Casalvelino Pollica. Quindi la partecipazione c'è, non è facile far partecipare i colleghi per la verità anche perché siamo anche un po' delusi perché tanti scioperi, tante manifestazioni fatte alla fine non hanno sortito un effetto ma oggi veramente siamo presi per il collo perché veramente è una condizione in cui non se ne può più e ci sono nei nostri studi affissi nei manifesti che spiegano dettagliatamente il motivo dello sciopero. Grazie.